numero 3 questo condizionatore consente di avere sempre un ambiente piacevole e di avere una temperatura ottimale per il riposo e il relax il condizionatore d'aria portatile è dotato di una capacità di raffreddamento elevata utilizzando una quantità di energia minima utilizza un gas eco sostenibile rispetto a quello tradizionale dispone di comandi elettronici con un display digitale della temperatura e un telecomando a raggi infrarossi bassa rumorosità ottimo rapporto qualità prezzo il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione numero 2 raffreddamento e riscaldamento efficaci con questo condizionatore d'aria portatile dotato di una capacità di raffreddamento e riscaldamento elevata utilizzando una quantità di energia minima dispone di comandi elettronici con un display digitale della temperatura e un telecomando a raggi infrarossi molto silenzioso ottimo rapporto qualità prezzo puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione numero 1 questo condizionatore permette di rinfrescare o riscaldare l'ambiente in base alle necessità il condizionatore d'aria portatile può essere comandato da remoto con l'app dedicata di electrolux il design elegante e cilindrico è davvero unico i suoi diffusori circolari permettono di raffreddare e riscaldare la casa in modo uniforme garantisce il massimo comfort perché la sua speciale forma cilindrica emette l'aria verso l'alto e non verso l'interno creando un flusso d'aria indiretto l'elegante telecomando di forma circolare è dotato di comandi sofisticati e intuitivi in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto